Dall'esplorazione dell'espondo in Canò alla costruzione del baby villaggio sul torrente chiassa per insegnare i bambini a vivere sul fiume, dalla conquista delle risorse per dare il via al disterretto e riguo 23 alle lavorazioni a tappeto in tutto il comprensorio. Si è così chiuso il 2023 per il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno che era chiuso in un calendario e fatti più significativi. Devo dire che tutto il piano dell'attività dell'anno 2023 è stato realizzato. E' stato realizzato molti degli interventi addirittura in anticipo rispetto a quelli che erano i tempisti che ci eravamo dati. Per ora stiamo facendo ogni anno meglio del precedente e questa è una grande soddisfazione. Come direttore non posso ringraziare nuovamente la struttura e essere veramente contenti di quello che stiamo perseguendo. Per il 2024 l'attività come è stato deliberato nell'assemblea scorsa con il piano dell'attività che è incrementale rispetto a quello precedente, abbiamo un aumento di oltre 10% delle attività previste, è sempre poco perché i bisogni del territorio sono tanti, però d'altra parte i bisogni del territorio. Poi per quanto riguarda la monotonazione ordinaria e quelle che sono le tematiche relative all'irrigazione, ce le autofinanziamo tutte. Poi chiaramente il territorio con scarsità di interventi strutturali ce ne è sempre più bisogno, ma si tratta di interventi di natura, diciamo di strutture vere e proprie, pure nuove opere che mancano per mettere più in sicurezza o ancora più in sicurezza il nostro territorio.